Con due bomber, GSA Castelfilardo, stasera qua di dei fatti sei e qui abbiamo anche l'altro bomber Campetella Momentaneamente infortunato, ricordiamo l'ultima partita, proprio la prima del 2013 Un 2013 che già vi vede protagonisti in assoluto, asfaltate gli avversari Alla destra c'è questo ragazzo, figlio d'arte, un gattafoni che faceva una sessantina di gol minimo a stagione Allora parliamo di questa partita, siete partiti male? Sì, come sempre, inizio io, come sempre, i primi dieci minuti del primo tempo abbiamo sempre questo breakout Dovete registrare, dopo ho preso le misure, abbiamo fatto una bella partita Dopo siamo andati sul secondo tempo sopra i tre gol Marcature però, da parte degli avversari, un po' libertine, nel senso, quando lì sulla destra lasciamo sempre quel paio di metri Loro, sì, loro, sempre un ultimo in classifica, davanti, hanno lasciato un po' spazio dietro Dopo noi, c'erano forse un po' più qualità e siamo riusciti ad andare in vantaggio dentro Paolo, quando è che rientri, quando è previsto? Per presto, devo fare una biografia per vedere le unità C'è, insomma, chi tiene il reparto ancora? C'è un bel gruppo là Quest'anno puntiamo, come dice Francesco, puntiamo grosso Andiamo a fare il massimo, diciamo che Non si dice, però Tocchiamoci tutto quello che c'è da noi Ragazzi, complimenti, allora ci si vede più in là Sperando sempre di trovarvi lì a combattere in alto Complimenti ancora Grazie